Una formula assolutoria piena che sicuramente restituisce la serenità a me e agli altri ufficiali coinvolti in questa vicenda ma soprattutto restituisce il sorriso alla cittadinanza attiva di questa provincia, a tutti coloro i quali lottano quotidianamente insieme ai loro carabinieri, lottano al nostro fianco contro il crimine comune, contro il crimine organizzato per restituire a questa società le libertà negate e soprattutto l'orgoglio di essere agrigentini.